Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Floating Island of Nucifera, ed è un irri access, ok andiamo su settings, vediamo se ci sono lingue, italiano, attenzione, no, non è cliccabile, no, ci sono rimasto malissimo, peccato, volevo cliccare, non si può cliccare, no, non si clicca, ok, cosa vuol dire sta cosa? Centro, destra, sinistra, ah dove vuoi il personaggio, dammela al centro, perché lo dice a destra? Non me l'accento, mi piace di più. Controlli, usd, look around, pausa intera... Ma questa canzoncina, vi ricorda qualcosa? A me si. Ok, nuovo gioco, empty. Quindi, if you kill your enemy before the... l'abbiamo fatta? Si. Ok. A parte l'orientalità di questa personaggio, mi sembra un po' strano. Ok, cosa devo fare? Head to open. Eeeh, ma... Allora, apprendista, classe, esplore classe, corrente, cargo, distanza 30, 20.000 panini. Ah, non sono panini, sono soldi, pensavo fossero panini. Side cargo, spesso, vabbè, eeeh... Cerchiamo di capire. Allora, io sono un personaggio, non c'è... c'è un punto interrogativo in alto. Si possono raccogliere? No. C'è un punto interrogativo a 17 metri, 15, 13, 12, 11, 10, eccolo qua! Era lui? Va bene. Merlino! Parliamo. Hey to talk. Piacere di vederti, mio bimbino. Grazie per essere venuto in poco tempo. Sì, spero che il tuo padre stia bene, sia ritorno dal suo viaggio, è passato tanto tempo... Cos'è brutta, sigillate, ritorno. Vabbè, schippiamo tutta questa roba così non gli annoiate. Annoiate. Hop it over. Receive you. Assume you want to eat the shop behind. Ok... Take it to... Granducom Main Bank Rappresentative will give you the key to the shop and we walk through the road. Ok. Before you leave, I strongly encourage you to meet other folk... Pepeppo. Vabbè, vuole che incontriamo altre persone. Se vuole sempre la socialità, voglio sempre... Ehm... Ok. Vabbè, se li hai... Pippolino! Allora... Dear Rosanna... I'm reading, with all my love, your father. Grazie. Seppere, papè. Nuovo campione. The Guardian. Ok. E che... Vai a parlare con la gente in giro. Guarda il pallino che ci sta sopra per la testa proprio. Vediamo se ci possa entrare. Guarda quella... Va bene. Non si può. Va bene. Andiamo in giro. Un po' alla Skyrim. Allora, qua c'è un castello... Manca un po' di shader, però. È vero? Un po' di atmosfera. Sa... Ah! C'è il salto! Perfetto! Ah! Ok. Vediamo se c'è qualcuno. Qui c'è un cartello che ho scritto... Coming soon. Quindi è coming soon. Qui c'è... Una po'... No. Ok. Scalini non si possono salire. C'è un fabbro. Hey, to talk. Tu devi essere la testa rossa che ho sentito... Di cui ho sentito. Ah, perché abbiamo la testa rossa. Va bene. Ah, non so tanto di tuo padre, ma so che è un bravo uomo. Mio nome è... Dwolleck Lightminer. Piacere di conoscerti. Sono un fabbro. Se hai qualcosa da craftare, dammi le risorse e un blueprint. E... Lo farò io, per te. Perché io sono bravo e tutti gli altri ne hanno. Perfetto. Ehm... Blacksmith. Sword. Iron 2. Iron... Ok. Si può craftare. Perfetto. Non c'è abbastanza risorse. X. Ma... Menu. M. I. 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 L'inventario. Ah, ma c'ho allora... Fornitore. Dispatch. You can see all of your further... No, no. Non voglio il tower. Next. 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 Ok. Questo cosa sarebbe? Quest. Daeneri. Lettero in intangione. Shop key. Va bene. Poi. Ok. Next. 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 Come faccio a tornare? Ah, così. Ok. C'è una persona. Questa è un portale. è tu open. Aspetta. Ciao. Ora non cammina spavato. Va, 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 va. Gradassone. Si vende per 50.000. È tu open. Eh... Vorrei... Lo compro. Non posso. X. È tu open. Nucifera teleport. Teleport. This is the location. Other to see it. Non posso. Ok. Lui chi è? E lo Rosanna. Lì era scritto con due S. eh. Eh... Grit again. C'è il bacio prippolo. Remember. The visit last time. È Nucifera. Ok. Vuole che apriamo il nostro negozio praticamente. Ok. Eh... Non c'ho niente. Non posso comprare. Non c'ho una lira. Faccio... Questo. Questo è coming soon. Devo fare 50.000 per prendere il negozio? Eh... Lala. I'm a passenger. Questo è chiuso. I click del mouse non fanno niente. Qua non c'è niente. Bella questa. Messo... C'è il grano. Sì, era bella. Allora... Eh... Sono vuote. Eh... Ah... C'è un punto interrogativo. Scomparso. No. C'è ancora. È bella grande però. Il carretto. Gridava. Quell'uomo gridava. Celati. Vai. Parla. Eh... Loro sanna. Non piangerebbe me. Dauder avendole borre. All'otto money from the main bank. Eh... Datemi. Oh, lui è il rappresentante. Ah... Ho due milioni di debiti. E hanno confiscato tutto. Ma ha confinto... Ma il grande mago mi ha convinto... A farti un piano di divorce. Eh... 21 pagamenti. Ci sono... Sono indebitata. 21 settimane. Il sabato. Eh... Ma... La chiave è il negozio. Penso che è di là. 330. Andiamo. Shift. 300... 150. Io vedo una porta. Voglio andare dove c'è la porta, eh. Sì, ma... È... In... 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 No. No. Qui c'è una barca, però. Dove salire sulla barca? No. Non mi fa salire sulla barca. Ah, è tu open. Sì, viaggiamo sulla wikin town. Così. Perché ci piace. Con questo terrore di di mare... Qui ci sono i vichinghi. Ciao, vichingo. Mi picchi? No. Andiamo... Qui c'è un coso. E qui c'è una persona a cui parlare. Aaaaaaah! King of the peak. Rule of this town. Dwarf. Ma sono vichinghi o sono nani? No, sono nani vichinghi. Nani vichinghi. Nani vichinghi. So il tuo nome bene. Tuo nome è from our wikin town. E quindi cosa mi ha lasciato di debiti pure lei? Adesso è bad di Easter. Voleppi. Dette tradizione. C'è? Che è successo? Quest. You notice the difficulty you are choosing the ship conveniente. Better way. Ok. Ok. Tanta roba scritta. Take a new quest. The mountain path. Eeeh. I. Quest. The mountain path. No, lo so. Sto cercando di capire dove dovrei andare. Qua c'è un portale. E tu open. Ah. Non lo posso buildare. Ah. Carino sto fatto. The mountain path. Questa è la. La. La mountain. Ho mille dolla. Questo lo posso. No. Decisamente non lo posso. Mi sono nascosto. Decisamente non lo posso rompere. Saliamo del The mountain path. Mh. Mh. Qualcosa mi puzza che vuoto. Sì. Vuoto. Madonna mia. E vuoto. E vuoto. C'ho la testa bianca. Ma io non ho capito. Questi sono i pagamenti. Customer info. Civile. Ok. Ma dov'è il mio negozio? Ce l'ho mai detto. Ah. Ti apri il negozio. La shop key. Non so neanche se. Dove ce l'ho. E non ce l'ho il ferro. Quindi è inutile che sono qua. Voglio vedere dove il mio. Il mio. Il mio. Il mio. Capito. Dov'è il mio negozio? Arrostato il mio negozio. Datemi il mio negozio. I pesci. No. Vabbè. Sì. Gimmi te. Negozio. Ok. Dov'è. Eh. Ma sono fuori. Cosa? Vado per l'antica città. Sì. Non lo so ma. Mi sta facendo. Sono andato nell'antica città adesso. Vabbè. Penso che il teleport non funzioni bene. Scusi. Mi sono perso. Però è carina questa città. Mi piace. L'unica cosa è che è tutto vuoto. Ok. Io vorrei tornare di là nella mia nocifera. Nocifera. Quella la. C'è il pilastro. Magari adesso mi fa teletrasporta. Aia. Magari mi termine. Mi sono dato un colpo con la mano alle cuffie. Mi teletrasporta a Nucifera. No. Nucifera. No. Ma forse è lì eh. Ma quali sono. Floaty Island. Vediamo. Proviamo a prendere la mongolfiera. Vediamo un po'. 24 hour later. Eh ma era qua a due passi praticamente. No. La piramide c'è. Se non premo shift. Oddio. Premo shift. Crouch. Alt. Control. Control. Altro. Non fanno niente. Ok. C'è un problema. E mi sono dimenticato dove è la mongolfiera. C'era da qua da qualche parte. Dov'è? Qualcuno se lo ricorda? Ok. Questo è il The Portal. Ovvero il portale. Ora la chiave del mio negozio. Qua ci debba essere il fabbro che non c'è. E io quello che mi ricordo che sono venuto da qua. Lì c'è un portone. Qui c'è una persona che non c'è. Eccola la. Andiamo a vedere la mongolfiera. Vediamo se possiamo partire. Stage. No. Reward. No. No. Select champion. Please select an island. Vorrei. Ma. Don't. Puede. Selezionare. An island. No. Non posso. Select champion. Non posso selezionare nessuna cosa. Aiutatemi. Scusa. Completed quest. Completed quest. All'aspetto. La rosanna. Immediate. Return to the earth. Home to the. Cioè ci ci ferà. Reward. Shop key. Penso che ho il mio negozio. No. No. Vabbè. Cioè le ho girati tutti ma c'era. Cioè pensavo fosse questo ma è coming soon. Quindi. Tra l'altro se è vuoto si vede all'interno dal vetro. Il portale porta ma non porta. Lucifa teleport teleport ma non posso. Di là mi serve il ferro. Questo vuole ferro. Che ne so. Magari il mio negozio è uno di questi così qua. Questo ubriaco. Cioè per la prima volta in vita mia. Mi trovo in grave difficoltà. Con un gioco. Cioè. O è ancora. Early. 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 Early access. Che manca. Andiamo nell'albero. Perché non so come prendi. Cioè come. Forse. Forse devo comprare. Forse devo comprare un piccone. Prendere il ferro. E qua si può scavare. Non lo so. Forse questo è il mio negozio. È l'unico che si può entrare. Vediamo. Magari è questo. Magari è questo. C'è un maiale. Bello. Questo mi piace. Banco. Banco. Questa è rimasta bloccata. Signora. Questo fa su e giù. Il murino. E. E. Questo. Forniture. No. Supply in demand. Un dispreccio che entra a cavallo. Item in market. Barbarian axe. Ok. E. Fra poco. Ci devo pagare il debito qua. Questo è il mio inventario. Non c'è niente. C'ho questa chiave. Shop key. Key to the shop. Left by your father. Lasciata dal tuo padre. Livello 0. Shit. E come faccio? Aspettate eh. Int. No. Main. Live. Resume. No. Pensavo ci fossero gli option. No. E. Spam un po' di tasti. Pl. Pl. Q. G. G. V. T. X. Z. C. No. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. No. Tu chi sei? Ciglionita Forseil 50 Vai Non può, questo è un negozio Ma il mio Negozio E' questo E' accanto, no C'è la bacheca Vediamola la bacheca No Sarà Questo No Questo è coming soon Oh, forse devo entrare nel castello Questa è una chiesa, non è un castello Non lo so Vediamo Credo sia vuoto, però Questo è un castello Non lo so Vediamo Farò 20 minuti di gameplay A camminare Praticamente Questa è andata a dormire Come faccio a riposare A far passare il tempo, no? Ma c'è un pugnale Niente L'unico potrebbe essere Quello lì Che è aperto Da un lato Close Open Ah Era questo C'è la porta Ok, ma non c'ho Ah, adesso Sì Ah, eccolo là Si vede nella Ho capito Ma Cosa faccio? Non c'ho nessuna Fornitura Cioè Ho aperto un negozio Signori Vengono A comprare L'aria fritta Aria fritta Aria fritta Per tutti Close Open Vabbè È il mio negozio Signora Lei che è prima Era a bloccare Vuole un po' di aria fritta Divendo l'aria fritta È punissima La facciamo anche al forno Aria fritta Al forno Degustazione Qua Venga 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 Non venga Forse l'hai soldato? No Poi c'è Uno Z Z Z Qualcuno sta dormendo A 100 60 Attenzione Forse Forse Ah Qua dormo Sì E me lo potevi dire Prima Otto ore Più tardi Ok Ce l'abbiamo fatta Apri Selezzi cempione Non ce l'ho Seleziona Un island Non c'è Ok Non c'ho le island Yup Adesso che è mattina Io c'ho Mille 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 dollar Mille dollar Con mille dollar Andiamo da Fabbro E vediamo di comprare qualcosa Non c'è il Fabbro Ma dai Ma che cavolo Devo fare Niente Non si può fare niente Il Fabbro Non c'è più Cioè l'unica cosa Che posso fare È questa Cioè non lo posso fare più Basta Una volta chiuso Basta Ah no Ok Lo posso aprire Il Fabbro Non è lui il Fabbro Ciao Fabbro Ciao Monociglio Sembra È lì le storie tese Grandi È lì le storie tese Allora Questo Chi è Il monaco Questo sta male È un bandito Sta male È un boia Perché mi passa attraverso È l'unico Con cui passa attraverso Signori Eccolo È tornato il Fabbro Allora Ciao Sì Per favore Questo non ne ho Cerimonia 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 Questa 2D Iron Non posso Scudo Lo print Non posso fare niente Qualsiasi cosa scelgo Scegli Iron E Quello E come faccio a prendere L'iron Signori Vorrei Vorrei L'iron Vediamo Space Merchant Knife Knife Accetta Accetta Rock Knife Knife Staffa Staffa Ok. Item. C'ho una spada. Che ci faccio? La vendo nel mio negozio. Che ci faccio? Gli alberi... Questo si può buttare giù? No. Questo? No. Vediamo, parliamo con lui. Aiutami, non so cosa fare. No. Non stiamo vendendo niente. Non c'ho niente da vendere. Non so cosa fare. Adesso andremo di là. Da quel lato lì e vedremo. Qua? Reward. Possibili cose. Serete cempione. Non possiamo fare niente. Eh. Duemila. Mille. Bui. Bui. Andiamo di qua. Magari spunta. No, c'è la piramide. Basta. No. Non c'è niente. Bene, signori. Ahimè. Purtroppo. Forse è un po' troppo. Siamo un po' troppo in anticipo su questo gioco. E non ho capito. Vi lascio il link in descrizione di Steam. Eh. Se sapete o conoscete cosa si debba fare. Come andare avanti in questo gioco. O c'è qualcosa da fare. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Forse posso salire di qua. Non posso neanche salire di qua. Se devo portare. Eh. Lasciate un like o un commento. E se vi va. Iscrivetevi. Naturalmente. E come sempre. Siete mitici. Alla prossima. Bye bye. Bye bye.